Allora, buongiorno, ciao da Simone, benvenuti, benvenuto e benvenuta alla visione di questo video, ancora un po' influenzato, quindi perdonatemi se la voce non sarà perfetta. Ci tenevo a fare un video in questo momento all'interno del gruppo, perché da più di 15 anni lavoro con le persone nel coaching per migliorare la performance, i risultati reali delle persone. Non sono il tipico mental coach, non faccio il motivatore, a me interessa non tanto motivare le persone quanto portarle a generare dei risultati concreti, una trasformazione reale, una trasformazione reale delle esperienze che hanno, dei risultati che hanno, anche in maniera quantificabile, misurabile, non semplicemente come stanno. Quello che è noto nel mondo del coaching, dello sviluppo personale in questo momento, è che c'è un'enorme attenzione, un'enorme spinta nella direzione degli unicorni, della pace, dell'amore, della meditazione, dello stare bene in qualche modo. E questo stare bene spesso passa attraverso l'accettazione di chi siamo, o meglio, l'accettazione di tutto quello che sentiamo. Questo secondo me è sbagliatissimo. Cioè, le persone iniziano a tenere per buono quello che sono in questo momento, quello che sentono, quello che percepiscono nel mondo, e questo le ingabbia ancora di più nei loro limiti. Molto spesso, per andare oltre ciò che hai in questo momento, per trasformare i tuoi schemi, per smettere di avere esperienze ripetute che stai avendo da 5, 10, 15, 20 anni, devi andare oltre quello che senti in questo momento, e guardare di più la realtà, osservare di più la realtà. Noi abbiamo dei meccanismi inibitori, a livello proprio neurologico, che ci fanno cancellare la realtà, che ci fanno non vedere dei pezzi di realtà che sono davanti a noi, che altre persone vedono e che noi non vediamo, perché abbiamo interiorizzato, magari 20, 30, 40, 50 anni fa, degli schemi così profondi, e li abbiamo interiorizzati a livello somatico, che ci fanno letteralmente cancellare dei pezzi di realtà, di ciò che è presente, e ci fanno vivere in un mondo che è il nostro mondo, il nostro modello del mondo, e ce lo fanno prendere per buono. Espandere questo modello del mondo, espandere questa realtà che ci siamo costruiti, molto spesso passa attraverso, anzi, necessariamente passa attraverso il rilascio di alcuni schemi, che non sono schemi semplicemente di pensiero, ma sono schemi corporei, sono degli schemi somatici che abbiamo introiettato tantissimo tempo fa. Per farlo dobbiamo in qualche modo smettere di accettare chi siamo in questo momento e iniziare a capire chi possiamo essere. E per farlo dobbiamo andare oltre ciò che sentiamo in questo momento. Dobbiamo andare oltre gli unicorni, oltre le meditazioni, oltre il fatto di lavorare solo sul lato luce, solo su ciò che pensiamo sia bello, buono, giusto, solo sugli aspetti apparentemente positivi che abbiamo. Noi stiamo cancellando dei pezzi di noi così profondi, così che abbiamo nascosto a un certo punto della nostra vita che nascondere ci toglie un sacco di energia e che allo stesso tempo stanno limitando la nostra performance attuale. Ripeto, a me interessa aiutare le persone, portare le persone a performare al meglio di ciò che possono, a essere al meglio di ciò che possono. E questo passa necessariamente, secondo me, anche attraverso la scoperta di chi puoi essere, oltre gli schemi che hai in questo momento, oltre ciò che ti piace in questo momento. Da cosa mi rendo conto quando una persona si sta limitando in qualche modo, o sta inibendo delle parti di sé? Beh, una cosa molto semplice, una cosa che noto tantissimo. Quando chiedo alle persone cosa vuoi, non sanno rispondermi. Sanno o rispondere a ciò che non vogliono, a ciò che vogliono eliminare nella vostra vita, nella loro vita, o mi parlano in termini di quantità di soldi, per esempio, voglio un milione di euro. È molto difficile lavorare con qualcuno che ha come obiettivo, semplicemente un obiettivo numerico di soldi, perché i soldi non sono esperienze. I soldi sono qualcosa che il tuo cervello pensa ti faranno avere delle esperienze, ma in realtà non stai ancora pensando a nessuna esperienza. Allora, fai questo esercizio. Che esperienze vuoi nella tua vita? Che tipo di esperienze vuoi? Per esperienze, appunto, ti chiedo cosa vuoi sperimentare, cosa vuoi sentire sulla tua pelle, che tipo di cose vuoi fare? Perché se hai difficoltà nel fare questa cosa qui, se difficilmente riesci a portare attenzione sull'esperienza, sulle esperienze che vuoi, questo è un segnale, dal mio punto di vista, che stai ragionando non in termini di presente, non in termini di chi sei, ma in termini di ciò che non hai in questo momento o ciò che non sei in questo momento. È un discorso non banalissimo, ma il fatto di integrare dei lati apparentemente negativi di te, delle cose che in questo momento non vedi, e di portare attenzione sulle esperienze che davvero vuoi, con autenticità, senza giudicarti, senza dare un giudizio su te stesso, su ciò che è buono, su ciò che è cattivo, senza dover apparire necessariamente la persona più buona del mondo, migliore del mondo, che è un po' quello che lo sviluppo personale in qualche modo tende a fare. Vedo tantissimi corsi, tantissimi approcci molto di cuore, molto belli, apparentemente, dal mio punto di vista, ma sono totalmente inutili spesso, perché si concentrano solo sul lato positivo, solo sul lato luce, e invece c'è un lato ombra, c'è un lato ombra di cose che hai messo in ombra perché le giudichi, c'è un pezzo di lavoro profondissimo da fare su quello che hai nascosto di te, che in questo momento, proprio perché hai nascosto quel pezzo lì, non ti consente di essere completo, una persona completa. Se non sei una persona completa, difficilmente riesci a raggiungere le performance che vuoi e avere le esperienze che vuoi. Quindi questo collegamento tra esperienze che vuoi, lato ombra e chi puoi essere davvero, è un lavoro molto interessante che passa attraverso l'accettazione di te, l'accettazione di chi sei davvero e non del, come dire, del senso di possibilità infinito che molto spesso i corsi di sviluppo personale ti danno, e la percezione chiara di quello che davvero puoi fare con le tue poche, scarse, piccole risorse in questo momento, concentrandole, usandole bene e non ritirandoti, rifugiandoti in un mondo di immaginazione, di fantasia. Molto spesso lo sviluppo personale, il coaching, il mental coaching soprattutto, diventano un mondo di fantasia, un mondo di vorrei ma non posso. Il mio lavoro è quello che faccio da più di 15 anni con le persone, con performer veri, reali, atleti, olimpionici, trader, persone che operano nei mercati finanziari, studenti della Bocconi, manager, quello di fargli fare un passo in avanti da dove sono adesso a un pezzettino oltre, guardando i loro schemi, vedendoli, rilasciandoli pezzettino alla volta, il 5% alla volta e andando a livello successivo. Questo secondo me è l'unico modo di lavorare, lavorare con le persone. Ti abbraccio, ci vediamo prestissimo, scusa per la voce ancora devastata oggettivamente, però ci tenevo a fare questo video e ci vediamo presto. Ciao.